C'è un certo numero di ragazzi, non so qua. E ci lavoro? Cioè, se ci sono un'attesa ai lavori, quindi... Non c'è la verità, io ero pure stavolta, perché in realtà è una... La macchina, più recente, che è un capo, è un lavoro che... Ah, ma a te piace molto scoprire? Quello? No, infatti è quello che poi ci ha spinto a fare... Io ho una differenza interna per questo concetto, quello di... 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 Reggio Lidac, poi quella è una cosa... adesso vanno molto anche questi restomi, votre особo tempo, queste reinterpretazioni. A me la macchina piace riportarla proprio come era... Come disierwi? Sì, sì, è giusto. Vengo da un servizio, come va la 916? Aspetta la sua, un altro borsista, poi è... No, la facciamo, la 718 aspirata, nuova, quella è la Spyder, quella è la Spyder del G4 Eh, vero, sì, sì, è vero, quella è la... Diciamo la facciamo tra virgolette, in angola, in angola...